Scusi, posso andare in bagno? Perché? Vabbè, non mi sembra il caso di dirlo. Sono uccelline, cazzo d'ora. Perpio quella cosa fideologica che hanno tutte quante le ragazze, chiamato ciclo mestruale, e vorrei evitare di far credere alla gente che qui in classe c'è stato un omicidio perché tutto è ricoperto di sangue, per cui posso andare in bagno? Scusi... Gucig, gucig... Aspetta... Sto facendo una cosa, ok? Smettila di guardarlo a vedere. Smettila di guardarlo a vedere. Smettila di guardarlo a vedere. C'è un cacciavite, non hai idea da dove lo tirò fuori. Quello che ti ho mandato io è quello che ha per papà le cuffie soltanto. Andiamo. E quello non sente niente perché ha le cuffie. C'è un cacciavite, cacciavite. No, quello aveva le cuffie. E non sente niente. Hai visto? Si. Codice G. D. O. L. V. E. V. 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 resti a posto di billy age, ti vuole il cd di estrazione ok zio che amo, ti invito io qua si possono fare anche server online come quelli dei computer se se lo scarica ma con il cellulare e ci potete giocare insieme crea un uomo mondo lo facciamo tutto in gradino aspetta molti giocatore mettiamo che ti invito ho messo creativa così possiamo costruire ho messo creatina guigliottina comunque qua una volta è venuto il compagno mio fratello quindi potresti venire di nuovo ma da sola con marco sai che qua vuoi fare i balli di fortnite no i balli di fortnite come balletti vuoi fare ti sto invitando se ti trovo a te ti fa unire da me aspetta 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 adottio arrivato ora 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 ti devo essere arrivati sì però hai le mie stesse skin lo sai dico hai le mie stesse skin perchè sei con il mio profilo dove sei? si ma staccalo i telefonos ma io sono saltato in aria devo mettere la skin quella la di Stranger Things tu basta che premio option poi metti la skin poi c'è scritto vediamo dove è la skin di Stranger Things ma come faccio mettere la donna? la donna vai opzioni e vai cercare ora possiamo fare tiktok anche su Minecraft ovvio ovvio dai come faccio a mettere una donna? una donna? la vai opzioni e fai cambia e modifica skin mi pare c'è scritto skin eh ma mi sponda sempre un maschio no devi cliccare no ho cliccato forse devi fare R1 e L1 ti spondano altre skin si lo so sto cercando di crearle ma non mi sponda sempre un maschio guarda che mi sono messo aspettate questo è 11 vediamo spanchi ma io ce l'ho si come ce l'ho? no con il mio profilo ma io non sono con il tuo profilo si ma anche lo stesso puoi trovarlo andiamo basta che fai di skin e fai di proprietà e ci sono tutte le skin non tante elementi in evidenza devo fare? no skin di proprietà ah ok c'è scritto profilo si 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 modifica profilo e poi c'è tutte le skin la c'è il coniglio c'è tutti c'è anche il demogodone guarda aspetta che sto mettendo la cosa among the gas gas is hard to keep my crew guarda mettiamo un cocco ecco visto qua non lo vedo la skin default come vedo la default yes hard to keep my crew un attimo lo rimetto hai provato a farlo si c'è questa skin guarda e demogorgone l'hai visto no non lo vedo non lo vedi no vedo la default ma sono di un altro colore giusto no non sei sempre di quel colore aiuto sono scesa come faccio a salire vola premio x una volta soltanto ciao ciao tu sei ecco di cosi vedi no ma io c'ho la schiena di stringertinze vediamo manda la foto oh fecao 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 feccare no 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 aspetta se tu vuoi sul tuo profilo puoi darsi che lo puoi vedere aspetta aspetta qual è la di 11 no come non lo vedo creiamo la casa la casa del team aspetta forse ora funziona vediamo ho fatto il equipaggio così la vedi no che cazzo boh comunque guarda c'avevo dustin ma tu la vedi la mia? si la vedo la tua ok sarà perché io non ce l'ho scaricati questi pacchetti dovresti controllare eh dopo vado a controllarmi vieni qua che costruiamo la casa ma io te l'avevo fatti scaricare mi sa no vediamo è difficile mantenere il mio cuore wow che bello ora sono con Dustin è difficile a durare il mio cuore è difficile a durare di mantenere io sono non è difficile a durare la vita ma questo skin di la ragazza la vedi vero si 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 questa si e lo sai perché perché non ce li ho scaricate capito non è non c'è non fossero aiuto questa no forse dovresti controllare sulle tue skin potessi che ce l'hai pure tu no non ce l'ho gabby abbiamo l'account condiviso quindi ti spuntano anche a te ma è impossibile a me lo spuntano ah io quando ce lo davo ci spuntavano le skin a tutti controllo scritto di proprietà di proprietà pacchetto uno skin ottieni di più ce n'è tante no non mi spuntano ma non è così lo scuola no 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 Ah, non lo so... Oh, 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 non lo so... Dai, lasciamo questo... Oh, non lo so... Oh! Ti ammazza, vedi? Però sei in creativa, comunque, non ti può ammazzare adesso... Ok... oddio che cosa ho premuto per stare così ci sono le peccette guarda c'è il papagallo di Millie lo vuoi vedere? è quello di Millie? qua se vi spostate però fate oh, fate il piacere ma che cazzo ma? non lo sapevo è nuovo per me questo personaggio l'ho visto adesso vai via guarda, guarda guarda no ti prego non lo farei apparire ma basta no ti prego basta è un cavallo guarda ma basta ma basta basta con questi Kripper allora conosci Kripper c'è anche il panda guarda il panda sa capota che bello il panda ciao piccolo panda ci sono anche i piccoli panda però ti devi togliere perché qui non possiamo costruire la casa li butti fuori da qui uccidi buttali fuori è morto è morto guarda 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 si è seduto si è seduto guarda guarda si è seduto l'hai visto? è seduto no 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 non ti sto dicendo di buttare fuori a Marco guarda questi qua non sto dicendo di buttare fuori a Marco su Kripper ehi si e basta perché non c'è nessuno no ma che è sta cosa guarda guarda ma cos'è? non l'ho visto mai ma cos'è? ma forse è d'artagnan si è d'artagnan ma forse è d'artagnan muori stanno bruciando no 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 sto bruciando Gabby hai bruciato tutta la casa stai combinando un macello no non ho fatto niente io non l'affare di legno parla di un altro ma che è? si è capottato guarda 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 l'ho visto è girato pure le coccole si è abbetta la fatta comunque in un modo posso ballare non prendere fuoco niente guarda vedi? sto battendo le mani guarda aspetta aspetta come ho fatto poco fa come ho fatto poco fa? aspetta come ho fatto poco fa? vedi che sto ballando ma che cacchio è? ci hanno aggiunto i balli ci hanno aggiunto quello che dicevo io no questo qua guarda qua e chi è questo? sto salutando guarda tipo forte guarda ciao ciao TikTok guarda 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 Oh, che cosa mi lanci? Aspetta che metto... ... 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 Guarda blu Guarda 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 che bello blu Guarda Che belli Sono verdi Ma ci sono anche altri colori? Si Wow Giallo Poi c'è altri Bianco Nero No ci sono i pipistrelli vai via Pipistrella di merda Pipistrella Vieni qua dove vai? Aspetta Aspetta Sali lì Sali questo qua Sali Devo salire qua? Qua si Questa 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 C'è anche il letto per dormire Questa Questa columns Questa 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 aspetta ora mettiamo tutte le luci tutti i led guarda, prima guarda no le zucche hai visto? sono illuminanti solo queste due però che illumino no ti prego la campana no no ti prego la campana no no ti prego ti prego la campana no 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 ti prego ora questo posto diventa aqualandi è il mio terrore ora questo posto diventa acqualandia guarda che bello la piscina uiiii no no ti prego no ti prego Gabriele no cosa hai fatto? no no non ti preoccupare guarda si può togliere pum 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 no sta piumendo secondo me dovevo fare un mondo tutto creativo però piatto come si fa ad aprire le porte che mi hai detto? con la levetta logica sinistra ho messo sempre John ho messo sempre John non 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 Mi senti? Sì, aspetta un'altra. Abbandona la cosa del team DNA? Perché? Abbandona. Cosa devo fare? Abbandona il gruppo di Whatsapp del team DNA. Ma che è successo? Ma come? Non piangere. Un piangere. Un piangere. Oh. Ludovico? Che sei che c'è? Nerno. Che sei che c'è? Nerno. Che sei che c'è? Nerno. Che sei che c'è? È fondare da. È fondare da. È fondare da. Vedi che Quello non Cioè non Quello non fa così per farti piangere Secondo me Lo fa apposta E lo so però lo fa apposta Lo fa apposta Per colpa di quella sua puttana Della tua ex Della mia ex No della sua Della mia ex Facciamo il tetto Che abbassa Ma perché mai non mi posso fidare più di nessuno Solamente di voi Ma di altri non mi posso fidare più di nessuno Sono di te Alessandria e Angelo Poi di altri non mi posso fidare più di nessuno No Sì. 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 Se le stanno andando tutti, ma so che... Se le sono andati tutti, ma... so che voi rimarrete per sempre. Sì. Sì. Invece dell'unico di cui mi posso invitare. Non ho più amici. A parte i cugini, c'è solamente te e Alessandro. Ti ho detto io. Che cosa? Quello lo fa così. Guarda. Cos'è? Chi è? Chi era? Hai ammazzato. Io, io, guarda, l'ho messo io, guarda. Ma come fai? Porta. Vai, creiamo la casa che è bella. È bella che creiamo le nostre stanze e poi ci mettiamo il PC. Cioè, ci sono tipo le cose del PC? Ci sono? Boh, forse sì. Ok. E creiamo tutta la stanza da gaming, bellissimo. Da game. Da very game. Da very game. Ah, vai, sì. Così. Guarda. 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 Che c'è? Ciao, Gabriele. Ora, qua mettiamo proprietà, Ludo e Gabriele. C'è un maiale qui. Minecraft. Puttana vacca, non si chiama Minecraft. Non si chiama Minecraft. Si chiama Minecraft. Problema, non mi fa aprire la porta. È impossibile. Con la levetta sinistra. No, con L2. Con L... Ah, e l'ho distrutta. Aspetta. Si è distrutta. Devo fare con L2. Aspetta. Che cosa sta succedendo? E le due. Aspetta. Eh, aspetta. Ah, potassi. Ho capito perché non ti fa. Aspetta. Un secondo. Le secondi che. Parvavaci adesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Le secondi che sto. Aspetta. Uno. Poi, due. E due. Ah. Ah. Dai. E c'è il carello, vedi. Aspetta. Aspetta. Ti fa così. Blanchette? Si. Blanchette. Ti fa così. Tipo. Quando parla così piano piano. Ma che cazzo sto dicendo? Basta, Marco. Che cosa sta? Guarda. Guarda, sono il carello, guarda sono le carello. Aspetta. Aspetta. Guarda, sono il carello. Guarda, sono il carello. Aspetta. Aspetta. Ora quando fai due anni. Ma? Quando fai due anni. Quando fai due anni e poi mi... Vengo dove fai due anni. Posso? Mmm. Ora facciamo tutto il di fuori bello. E' come il mazzarello. Guarda. Ho messo nel carello. Guarda. Ma povero. Uiii. Gira. Guarda. Ma povero. Uiii. Ci sta... Ci sta... Ci sta... C'è uno sottoterra, guarda. Vai. Decoriamo la casa di dentro, vai. Dentro. No, ho sbagliato. Dai che cazzo. Guarda, guarda, guarda che c'è. Oh. Vuole pane. Ah. 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 Ti, 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 ti. No. No. Ma perché non mi fa aprire prima che facevo? Vediamo chi c'è qua. Ti spaventerà. Cercami. Ok. Cercami nel buio. Aspetta un attimo. Cercami. Ciao. Ma si vede il nome. Eh. No, ti prego. No, ti prego. No, ti prego, togli. Mi hai trovato. Vabbè, ma si vede il nome. Allora, adesso mettiamo le luci. I sas. I sas. I sas. Le luci. I sas. Deve essere più luminosa di luminosa. ok. C'è anche questa parte. Sì. Bello. Tu, 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 tu. Dunque ci sono anche queste luce piccole Guarda Adesso facciamo le due stanze Allora Ci sono anche i quadri Ma cosa Allora Facciamo le finestre ok Ci sono anche i quadri No 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 i conigli No Un coniglio se ne è andato via Guarda Guarda E' tutta l'intera mappa nostra Perché la metti Che sta Gabri Eh si Gabri Mago Aggiungi altri conigli Che aspetto Eccolo Divino si chiamava No ma scusa Ma cosa sta succedendo qui Guarda c'è un desk Aspetta Ma puttana bacca C'è Pinocchio Ecco Il viaggio di turistico Guarda 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 C'è Pinocchio Guarda Ciao Ciao Da qui All'Inferite No Ma vaffanculo wow wow prendetemi per pazzo sì pazzo che su pazzo per i quadri no non sto mettendo quattro aiuta ciao coniglio dove pensi di andare coniglio ciao io vado da vado nel sotto modo di stringer teens addio ciao guarda 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 gira di aspetta cd è sotto modo e saint jean teens è sottosopra e come faccio da tornare indietro basta che entri qua il don indietro spetta dove sono noi non voglio stare nel sotto sopra siamo ritornati ma ti prego togli sta roba ti prego ti prego perché